Domenica di voto per i finlandesi che scelgono il proprio presidente al secondo turno. Favorito il conservatore Nijinist, europeista e già ministro delle finanze, competenza tra le più apprezzate in tempo di crisi. I sondaggi lo danno al 60%. Largo il margine sull'avversario, il verde liberale ha avisto anche gli pro-Europa ed ex ministro che si è recato alle urne con il suo compagno. Un terzo dei quasi 4 milioni e mezzo di elettori iscritti ha già votato in anticipo. Il resto si reca ai seggi malgrado le temperature oscillanti tra i 30 e i 40 gradi sotto zero. In serata il nome di chi prenderà il posto della popolare e due volte presidente Tarja Alonen per un mandato di sei anni e una funzione dai poteri limitati, soprattutto in tema di Unione Europea. Grazie. Grazie.